Le risorse finanziarie ci sono, ci sono per il reddito di cittadinanza e per tante altre cose vuote. Non sulle sciocchette, è soltanto questione di volontà politica, che non hai proprio. Non hai volontà politica, ma la pagherai cara alle prossime elezioni. Firmiamo, cittadini, firmiamo per il reddito di cittadinanza, firmiamo per una LCAuto che sia più equa. Forse ci sono i renditi minimi e i cittadini più virtuosi, cari cittadini, il 31 maggio, votiamo Movimento 5 Stelle. I sondaggi di opinione, tanto Movimento 5 Stelle, prima forza politica regionale, in Campania, finalmente, sta cambiando qualcosa. MASSIMUCCIO MASSIMUCCIO Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.